Grazie, mi unisco ai ringraziamenti per chi ha lavorato, sono felice di essere qua, sono felice che Lucia abbia l'onore e l'onere di accompagnare queste celebrazioni. Sono felice di essere di fianco a Giuseppe Conte con cui abbiamo lavorato bene per nove mesi, con cui lavoreremo bene per almeno cinque anni e poi siamo tutti nelle mani del buon Dio e degli italiani, questo a ricordare ai colleghi giornalisti che se aspettano che qualcuno cada, mi sa che aspettano a lungo. Leonardo, due minuti sui navigli, fortuna che all'epoca almeno non risulta agli atti, l'analisi costi benefici del collegamento del naviglio martesana con la cerchia interna dei navigli. Però io me lo ricordo perché faceva parte della mia gioventù e lo dico da milanese a Roma, alcune soluzioni geniali che vengono colte oggi che permisero a Milano di collegarsi con l'Adda, col Ticino, a una di queste chiuse a cui Leonardo lavorò a inizio 500 euro particolarmente legato perché c'è uno dei più noti locali di Milano che ai tempi del liceo frequentavo tutti i venerdì, che era il Tumbun de San Marco, tradotto era la chiusa di San Marco che collegava la cerchia interna con la cerchia esterna. A un'altra di queste chiuse sono particolarmente legato perché era all'altezza di Cernusco sul naviglio e collegava l'Adda con il centro della città e questa chiusa era appunto a Cernusco dove prima le merci si fermavano e venivano caricate sugli asini per arrivare in città perché sono legato a Cernusco Giuseppe perché la mia prima fidanzata era di Cassina dei Pecchi che ha tre chilometri a Cernusco sul naviglio quindi sono tutti legami evidentemente storici e culturalmente scientificamente provati quindi si passa dalla birreria in San Marco per la chiusa alla finanzata di Cassina dei Pecchi e si arriva ad oggi, io sono contento di essere arrivato a 46 anni e poter fare anche tanto altro nella vita perché da milanese, lo confesso, ho accompagnato tanta gente, ho permesso a tanta gente di andare a vedere l'ultima cena non l'ho mai vista e annuncio al Presidente del Consiglio che stiamo lavorando con l'ambasciatore francese per riprenderci la gioconda, così almeno sarà più comodo per tutti quanti poterla vedere a portata di mano scherzi a parte, ovviamente non abbiamo bisogno di altre crisi internazionali però sarà l'occasione di crescere anche per me perché ci sono state soluzioni artistiche, ingegneristiche, architettoniche di tutela dell'ambiente di sviluppo del trasporto delle merci, dell'economia assolutamente visionarie per l'epoca, perché però dopo 500 anni sono lì perché quelle chiuse sono lì, perché allora non si pensava che con due diversi di acqua si potesse chiudendo da una parte, aprendo dall'altra, far arrivare le merci in centro a Milano che io mi auguro torni a essere città d'acqua e quindi su questo il governo penso, conto e spero che farà tutto il possibile perché Milano che sta facendo tanto però contemplando il diritto al business torni a essere quella che era una città bella, pulita ed acqua e quindi sono convinto che Lucia magari su questo lavorerà con Regione Lombardia e con il Comune di Milano perché il cinquecentenario potrebbe essere l'occasione migliore per riportare alla luce, come peraltro da referendum votato dai miei concittadini tempo fa riportare alla luce una parte di quell'acqua che è vita, che è speranza, che è trasporto, che è sguardo rivolto al futuro quindi mi faccio carico da qui al 2 maggio anche se sarà un periodo abbastanza complicato Giuseppe perché ci sono le elezioni europee il 26 maggio però almeno l'ultima cena vado ad ammirarla per quello che riguarda la Gioconda finché rimane a Parigi ci metterò un po' di più però vi ringrazio perché veramente, soprattutto per gli studenti soprattutto per gli studenti è l'esempio che bisogna crederci se puoi sognarlo puoi farlo, ci insegnava Walt Disney quindi questo è il classico esempio del fatto che occorre guardare oltre noi ogni tanto ovviamente guardiamo al quotidiano ognuno con le sue soddisfazioni e le sue disperazioni però sono contento di questi nove mesi sono contento degli amici e dei colleghi che abbiamo trovato lungo questo tratto di strada e penso che di strada insieme ne faremo ancora tanta vieni anche tu con me all'ultima cena ecco così Giove ah 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 Grazie.